Buon pomeriggio dall'ippodromo delle Capannele, Demonele Cardona. Prima corsa riservata ai tre anni, non vincitori di 6.000 euro in carriera, 1.640 ai metri. Sono in 7 al via, 1. Tabata e Kappa, 2. Tina Turner F, 3. Turno di azzurra, 4. Tic e Turaid, 5. Torque Madabi, 6. Tigrotto Queen, 7. Tancredi Oro. 150 allo stacco, macchina che accelera, partono nettamente discosti. Tigrotto Queen e Tancredi Oro, rinuncia al lancio, anche turno di azzurra. In tre a lottare per il comando dalla corda, troviamo Tabata e Kappa, Tic e Turaid e Torque Madabi, con quest'ultima che emerge chiaramente dopo 100 metri. Si installa al comando con Dario Battistini su Tabata e Kappa. Tic e Turaid si sistema in terza posizione della corda davanti a Tina Turner F. Poi turno di azzurra, che muove subito all'esterno, parato da Tina Turner F. Cavalli che hanno completato la curva iniziale e adesso vanno a chiudere i 400 in 31. L'avanzata decisa di turno di azzurra, che va a chiedere a ottenere strada dalla leader Torque Madabi dopo 500 metri di corsa. Rimane aria in faccia Tina Turner F. Turno di azzurra, completa i 600 in 45 spaccati, c'è un 14-8 di frazione. Davanti con spesa, ma è dove voleva essere Peppe Lombardo, che adesso cercherà di gestire la corsa. Chiede impegno alla sua allieva, Frustino girato. 800 in 1-1-4 per turno di azzurra, che precede sempre Torque Madabi. Posizioni cristallizzate lungo la corda Tabata e Kappa, poi Tic e Turaid. Fatica invece Tina Turner, chiusura del chilometro in 1-16-8 con turno di azzurra, che continua a buon passo, seguito sempre come un'ombra da Torque Madabi. Poi sempre Tabata e Kappa, tre quarti di miglio in 1-31-4, 14-6 di frazione. Schiappa a traguardo lontano, Turbo di azzurra, sembra aver inscenato la fuga vincente. Torque Madabi comunque si è sempre lì a due lunghezze, 200 conclusivi con turno di azzurra, che deve solo amministrare. Si distende bene in arrivo, finisce abbastanza bene Tic e Turaid. Nel finale, turno di azzurra, rifinisce una facile prestazione, va ad affermarsi, mentre per il secondo posto il numero 5 di Torque Madabi è avvicinata da Tic e Turaid, probabilmente non battuta. 2-1-3 sul mio cronometro, una misura ufficiosa, intorno all'1-15-8. Primo successo in carriera per questo stimato Love You e Foga di Azzurra, allenato da Eric Bondo, ben interpretato da Peppe Lombardi. I colori sono quelli della scuderia Incolings, lo vediamo distendersi bene nel finale. Vediamo la lotta per il secondo, perché mi sembra abbastanza accesa. Potrebbe avercela fatta ancora Torque Madabi, sì l'impressione è per Torque Madabi su Tic e Turaid, ma attendete, attendete assolutamente l'ordine di arrivo ufficiale, perché per il secondo c'è foto. È tutto per la prima dalle capannelle. Grazie. Grazie.